quello che avviene sistematicamente in alcuni punti della città presi sempre di mira da coloro che ne fanno una discarica richiama un po' la parabola della tela di penelope che di giorno tesseva e di notte la disfaceva solo che qui c'è chi porta via e ripulisce volontariamente determinati luoghi di giorno come gli attivisti di puliamo fano e chi invece nottetempo arriva getta rifiuti a più non posso siamo nell'arcinota area dell'ex aeroporto al vallato di fano durante l'estate ripulita dall'immondizia e dei materiali abbandonati qui abusivamente ma a distanza di pochi mesi siamo punto e a capo qui per esempio vediamo delle taniche di vernice vediamo dei rifiuti domestici da altra parte sono dei bancali dietro di noi ci sono dei materassi quindi è veramente una discarica quando a un chilometro due chilometri da qua c'è la discarica dell'asate che ti raccoglie rifiuti gratis quindi neanche a dire che c'è troppo distante qui si tratta proprio di ignoranza e di mancanza di rispetto verso l'ambiente soluzioni in attesa che il parco urbano prenda vita nel 2020 in questa parte di lotto si devono prendere dei provvedimenti qualcosa bisognerà pur fare per disincentivare queste persone che preferiscono comportarsi in questo modo scellerato ci dicono i volontari telecamere antifurbetti forse o meglio ancora eliminare definitivamente questo terrapieno che data la sua altezza non fa altro che creare una piccola selva e dare un riparo da occhi indiscreti ai colpevoli di questo scempio purtroppo se è sempre questo il punto dove anche in passato è stato lasciato di tutto un motivo ci sarà voi vi state impegnando tanto come gruppo puliamo fano avete fatto una sorta di crociata contro il brutto però non demordete insomma sì noi ogni settimana circa facciamo un evento dove andiamo a pulire in giro per la città però come vediamo qua noi veniamo a pulire in un posto e in automatica qualcuno arriva e inizia a sporcare se qualcuno volesse aiutarci nelle nostre opere di pulizia in giro per la città facciamo sia le spiagge ma anche a volte degli eventi in giro per in qualche zona verde si può seguire nella pagina facebook di poliamo fano oppure sui soldi oppure anche su instagram su poliamo fano